Guarda questa foto qui, è quando Marco mi ha portato l'altro giorno al mare, siamo stati insieme tutto il giorno, ci siamo divertiti come pazzi Dai, però siete bene insieme Dici? Beh, effettivamente siamo carini insieme Sai che sono arrivata a pensare che questo sia finalmente quello giusto Io direi che è un po' presto però Beh, in realtà siamo già insieme da cinque mesi, io direi che si può fare Cioè, comunque sempre gentile e cordialissimo con me, quindi io credo sia veramente quello giusto Guarda anche quest'altra foto, qui siamo andati a Luna Park insieme Che carini Eh sì, però sono già le cinque, io mi sa che faccio meglio da andare a casa a studiare Ci vediamo domani, ciao E' facile lasciarsi un telefono Michele ha fatto il primo possibile, che cosa è successo? Che devi dirmi? Senti Luca ha ricevuto la tua foto da Matteo Ma lui mi aveva detto che sarebbe rimasta una foto privata, una foto solamente per lui E io adesso cosa dovrei fare? Prova a chiamarlo Dobbiamo dirlo a qualcuno? Così potranno togliere la foto, altrimenti domani sarà sui cellulari di tutta la scuola Non risponde, non mi risponde E guarda per di più mi è anche bloccata su Facebook Io credo che se dovessero venire a saperlo i miei genitori Mi ucciderei No Ho perso la maggior parte dei miei amici e non so più di chi fidarmi Sono molto preoccupata per il mio futuro perché quella foto mi seguirà sempre Tutti mi giudicheranno male Ho pensato al suicidio Ora so che il mio sexting avrà un impatto duro su di me e sulla mia famiglia Per sempre Grazie 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 Grazie